Ciao a tutti, come va? Grazie per l'intervista, vado ad eseguirla con i miei potenti mezzi, purtroppo questa è la migliore inquadratura che riesco a produrre in questo momento, giornata caldissima. Allora la prima domanda è, hai un curriculum variegato ed infinito, innanzitutto complimenti, grazie. Ti chiedo allora, cosa non rifaresti a livello professionale? Cosa invece avresti voluto fare ma non hai ancora fatto? Allora a livello professionale cosa non rifarei? Forse avevo fatto anni fa Music Zoo, ve la ricordate? Music Zoo era un po' un programma, ma in realtà lo rifarei, però non è che mi convincesse tanto, era su Viva, quel canale musicale tedesco che è avvenuto per un periodo in Italia, si parlava di musica un po' strana, un po' trash, un po' da ridere anche e quindi c'erano tutti dei gruppi particolari e va bene, comunque è stata un'esperienza anche quella. Forse, forse, forse non la rifarei però. Invece che cosa avresti voluto fare che non hai mai fatto? Forse avrei voluto fare più teatro. Io ho studiato recitazione e ho fatto poco teatro e chi fa teatro secondo me è più bravo perché è più difficile, l'attore è un mestiere più nobile, cioè chi fa teatro, così anche come la radio, è più difficile della televisione perché non ti aiuta la gestualità, la mimica, così il teatro è difficile perché devi tenere alta l'attenzione delle persone, invece la telecamera è facile perché qui davanti dopo un po' te la dimentichi e poi canalizzi meglio quello che dici, invece a teatro è dura tenere l'attenzione alta, devi essere bravo, devi essere tecnico, insomma, quello, avrei fatto più teatro. Non è detto che non lo faccia ancora perché forse magari sì, sto scrivendo qualcosa. Parliamo ora di musica. Il tuo ultimo singolo si fa a un video che raccoglie avvenimenti, emozioni e luoghi della tua vita. Come è nato questo brano? Questo brano è nato un'estate di qualche anno fa in cui riflettevo sul fatto che tutte le cose che faccio da solo alla fine le faccio prima, le faccio, non so se è meglio ma devo sempre aspettare magari qualcun altro che sia il professionista del settore di turno che poi non può, poi non lo fa come ce l'ho in mente, quindi è un po' un inno al do it yourself, fatti le cose da sé, chi fa da sé fa per tre, alla fine, stringi stringi è quello. Quindi ho fatto, tra le altre cose, questo video con le mie mani, erano dei viaggi, una raccolta di viaggi e di memorie, di cose andate bene e andate male, di posti visti non visti perché passavo di corsa e quindi rappresenta nella mia testa quella canzone, non so se lo è anche per chi l'ascolta ma insomma per me è efficace ed è quello che volevo rappresentare, che rappresentasse la canzone. Quali sono le cose che più di tutte ti hanno reso e ti rendono felice? Mi rende felice l'equilibrio, trovare l'equilibrio è una ricerca continua ogni giorno, l'equilibrio è quello che ti fa stare bene, che ti dà la felicità, ogni situazione che poi ha uno scompenso deve ritrovare un nuovo equilibrio e allora in quel momento io sono felice e quindi anche se in realtà una volta che sei equilibrato rischi di essere statico e gli artisti forse quando sono statici non sono produttivi, così produttivi insomma quando sono equilibrato non produco alla grande, si sa che la creatività viene fuori un po' dagli scompensi, però insomma è il momento più tranquillo in cui sto meglio, in cui sono felice quando sono equilibrato, quindi è quello che cerco, l'equilibrio. Detto ciò quali sono? No, ho già letta ma hai insarmi un libro? Sì, è vero, ci vuoi dare qualche anteprima? No, non posso, sì, è un libro che è un po' indietro le quinte di quello che ho fatto alle Iene in questi anni, cose serie e meno e siccome quello che vi ho potuto far vedere non è quello che avrei voluto, non è solo quello che avrei voluto farvi vedere, ma è semplicemente la punta dell'iceberg, io vi invito a leggerlo e da quello ne scaturirà uno spettacolo perché ho un sacco di altre cose da raccontare, quello è, è da lì che andrò a teatro. Poi hai in serbo anche un libro? Leggo sempre la stessa domanda, poi ti vedremo impegnato in qualche nuovo progetto? Possiamo avere qualche news? Quello che ho detto, c'è il libro, c'è il teatro e poi scrivo un sacco di cose per la televisione e per internet adesso, quindi vediamo se e dove troveranno luce queste creature, va bene? Però ancora non lo so questo, non so come né dove e né quale di queste si potrà, insomma, realizzerò per primo. Grazie ancora per l'intervista, spero di essere stato esauriente, di essere stato bravo anche tecnicamente e a presto, a settembre esce un nuovo pezzo e sarà bello, sarà molto bello, un po' un po' folle forse però, cos'è la follia? Cioè, di fronte a quello che viviamo tutti i giorni, di fronte alla realtà. Ai ai, che periodo eh? Ciao ragazzi, baci!